buongiorno salve buongiorno senta io chiamo da napoli buongiorno buongiorno io la chiamo per un'informazione noi veniamo da milano salve buongiorno senta io chiamo da napoli volevo sapere se c'era disponibilità di stanze per la sera di sabato io vengo alla manifestazione che c'è lì da voi appuntita la giornata di sabato sono completo non c'è disponibilità no nemmeno singolo va bene la ringrazio gentilissima salve buongiorno sì buongiorno 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 io la chiamo per un'informazione sabato vorrei venire con la mia famiglia puntida noi veniamo da milano è disponibile per caso una camera per sabato sera ce l'ho ok devo dire il prezzo però sì ok perfetto allora adesso magari mi sento con mia moglie e la richiamo subito va bene grazie arrivederci aspetto grazie e la saluto